Sado 1, squadra di terra in attesa al cimitero a Ovent, siamo marcati con luci strobo, confermare ricevuto, attendete, confermare visuale sulla squadra di terra Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, eccoci con un'altra puntata di Call of Duty Modern Warfare 3 ma cosa devo confermare, scusate potresti dirmi cosa devo confermare, ecco non li vedevo non capisco interrotto minacce a nord-est, gente, nemici alla torre di comunicazione ma dov'è il sito San? minacce a nord-est, gente, nemici alla torre di comunicazione artigliere, inquadra subito quella torre sito San vicino alla torre artigliere, sbara un missile su quel sito San connici sta puntando, colpisci quel sito San con un missile sito San nemico e ma l'ho colpì, madonna, ma ragazzi però ma col missile proprio da voi dove non è iniziato tre secondi in ingresso al cimitero stato 1, squadra di terra in contatto, sparate! ricevuto, recebiamo, a fuoco sul cimitero Sistemati. La squadra di terra avanza attraverso il cimitero. Affermativo, scelto in copertura. Staglio pulverizzato. Benvenuti Nordic Tan. Contatto. Shadow, truppe sotto attacco, fuoco di copertura. Shadow, conferma. Procediamo. L'occhio nel cielo vede tutto. Guarda di terra, avanzate. Affermativo, avanziamo. Coprite di Shadow. Abbiamo nemici in arrivo da sotto. Marco. 3-1, contatto. Shadow 1, ci sperano addosso, rispondi al fuoco. Ricevuto Kilo, ci stiamo lavorando. Partigliere, spara sui nemici intorno alla squadra di terra. Attacco riuscito. Partigliere, guarda dove sono lì. Versaglio, l'ho scoperto. Incappate pure, vi beccheremo lo stesso. Assegno. Stato 1, attacco a segno. Continua così, la squadra di terra avanza. Ci siamo, squadra. Cessare fuoco! Sta imparando sui nostri artiglieri. Aereo di Conny in decollo. Estremità all'esterno vista. Percevuto, jet Conny. Marco il bersaglio. Colpisce il jet prima che decolli. Jet, al lavoro! Sette colla! Siamo nella merda! Jet in decollo. Sette colla, Simonello Marta! Jet in decollo. Sette colla! Siamo nell'omarda! Jet in ricollo. Jet nemico distrutto. Priorità aerea shadow. Dei nemici attraversano la pista. Squadra, diversi conni sulla pista. State al riparo, vi apriamo un barco. Ricevuto, squadra in attesa a sud-ovest. Proteggiamo la squadra di terra, non spariamo sugli hangar. Meno uno. Una meraviglia. Attacco riuscito. Carico i colpi. Squadre, procedete. Ricevuto, la squadra avanza all'hangar 1. Coprili fino all'edificio bersaglio. Non sparate sugli hangar finché non troveremo le sostanze chimiche. Makarov non deve vincere. Squadra di terra all'hangar 1. Andiamo dentro. Minacce in uscita dalle strutture sul lato sud della base. Marco. Segliere, non far avvicinare i conni a quell'hangar. Ricompro io. Shadow 1, il primo hangar è libero. Cerchiamo le sostanze. Ricevuto. Nemici diretti all'hangar 1. Non lo sai. Fuoco di RPG. RPG avvistato, torre a sotto dell'hangar 1. Nemici in direzione del... Fuoco di RPG. RPG avvistato, torre a sotto dell'hangar 1. Shadow, neutralizzare gli RPG. Conni non deve distruggere gli angari. Nemici diretti all'hangar 1. Percevuto. Capo a squadra di terra. Rapporto. Fuoco nell'acqua all'hangar 1. Nessun arsenale chimico. Ho capito. Però siamo certi che Makarov lo tenga tutto nella base. Se non è in quell'hangar, sarà nell'altro. Controllate bene prima di proseguire. Ok, ci passeremo a fondo l'hangar. Shadow 1, ci dai copertura? Ci piaceremo in azio, Kilo. Infatto confermato. A tutte le unità, qui niente arsenale chimico. Angar 1 pulito. Squadra di terra all'hangar 2. Shadow in copertura dall'alto. Ok, Gold Eagle. Ci siamo, squadra di terra. Rissevuto. Andiamo all'hangar 2. Colpi di mortaio in arrivo da nord-ovest. Artigliere, spara a quei mortai. Munizioni esaurite, attendere. Portaisti nemici uccisi. Makarov, quel bastardo distruggerebbe la base pur di tenersi le armi chimiche. Sono nell'altro hangar. Forse c'è anche lui. Colpisci quegli RPG. Artigliere, coltanto 3 fuoco sull'RPG. A tutti, hangar 2 libero. Attenzione, l'arsenale chimico è qui. E Makarov? Negativo, lui non c'è. Forse è finito. Squadra di terra, neutralizzare le sostanze. Shadow, restare in copertura. Perciò accendere finché il lavoro non è finito. Ricevuto, Gold Eagle. A tutte le unità. Comunicazioni coni intercettate fuori dalla base. Stanno mobilitando rinforzi e veicoli corazzati. Quelli vi faranno penare. Ricevuto, capo. Carro nemico, lato nord della base. Shadow 1. No, quel carro non deve distruggere l'arsenale chimico. Artigliere, sai cosa fare? Elimina quel carro. Farò un missile a casa. Lì c'è la torre radio. Alzi, c'era. Carro nemico distrutto. Bene. Odio quegli armari. Veicoli nemici. A nord. Ricevuto. Li marco. Fuoco su quei veicoli. Avanzano verso linea 2. Sì. Nemici in ingresso nell'hangar Nemici fuori dall'hangar Fate polizia, tenete i conni lontani dall'hangar Cotteri nemici in decollo a nord-ovest arrivano Visti, elicotteri mancati Piacciamo quegli incendi Tenili lontani dall'hangar Arredo! Questa voglio vedere Allontanali dall'hangar, proteggi la squadra di terra Boom, baby Missili in arrivo Shadow 1, proteggete l'hangar, teneteli lontani Shadow 1, proteggete la squadra di terra Ricarico, finger vicino al lato Non fateli avvicinare Carro in nemici in direzione nord Non permettete al carro di colpire le sostanze chimiche Conni sta preparando un altro attacco Facciamoli fuori Attenzione Shadow 1, aprono le porte di un edificio all'estremità ovest della pista, vicino al cimitero Jet nemico a ovest della pista Questo è il caposalto di Conni in urtistana Passatelo via Gente, a lavoro Sette colla, siamo nella merda Shadow 1, coprite l'hangar, teneteli lontani Jet in decollo Baccatevi questa stronzi Jet numero 2 distrutto Shadow 1, proteggete la squadra di terra E loro non si vengono per atti Ricarico Potetevi avvicinare Fissile in arrivo Nemico in ingresso nell'hangar Nemico a terra Singer nemico al cimitero Porta artigliere Nemici fuori dall'hangar Certo, Tinger ha battuto Mi sa che quello non si rialza più L'hangar Nemico a terra Nemici fuori dall'hangar Quelli pensavano di essere al sicuro Mi sa che quello non si rialza più Velo è pieno di buchi Missile in arrivo Colpo a seco Certo, Tinger ha battuto Nemo lì Colpo a seco Bene Capo a tutte le unità Abbiamo conferma che Makarov è nel mare Tenterà il tutto per tutto Per l'alternale chimico Squadra di terra Pronti all'estrazione? Negativo Armi chimiche ancora attive Serve tempo Ricevuto Conto su di voi Graves Se voi restate di guardia Se vedete Makarov Abbattetelo Ok, Gold Eagle Shadow 1 pronto a intervenire Elicottero nemico in arrivo da nord-est È Makarov Shadow Fuoco su quel pezzo di merda Ricevuto Diretta poco da vivere Facciamo la finita, Shadow Ricevuto Armi pronte L'elicottero vuole distruggere l'hangar Serve aiuto Abbattilo Non fa che solpire le sostanze chimiche L'elicottero precipita Eh, non credo che era lì Graves, appena la squadra di terra è fuori Sganciate un missile su quell'hangar Seppellite l'arsenale con Makarov Percevuto Shadow 1, squadra di terra al sicuro Distruggete l'hangar Artigliere, vai Al segno Angar distrutto Ecco un lavoro fatto come si deve La sfida Ania, Vladimir Nella vita ci sono tre cose a cui non ti sfugge La morte, le tasse e me Non credo che è morto Non credo avere a che fare con voi Capo, rientro alla base Chiudo Ricevuto, Shadow Un lavoro davvero eccellente Buon rientro, Fisio Grazie dell'aiuto, Shadow Io non uccide Sei a tutte le unità L'uccisione non è confermata Ripeto, l'uccisione non è confermata Dobbiamo cercare a identificare Makarov Capo Goldeagle a tutte le unità Avete ordine di ritirarvi Là sotto sono rimaste solo macerie bruciate Non abbiamo bisogno di ulteriori conferme Sei, qui uno Qui sei È finita, John Abbiamo spedito quel bastardo all'inferno Già, l'abbiamo detto anche di Graves Spero Makarov è morto, Capitano Non lasciarti tormentare da lui Chiudo Serpard vede solo ciò che vuole Il suo nome su una vittoria e un'altra medaglia sul petto Tu cosa vedi? È ciò che non vedo a preoccuparmi Se è vivo Ce lo farà sapere, Capitano Dove e quando Resta da vedere Abbiamo un debito verso la nostra Task Force E l'U.L.F. per il successo contro Vladimir Makarov E il suo esercito Si è parlato molto dell'U.L.F. Farah Karim e i suoi soldati sono dei terroristi? No Farah Karim è ed è sempre stata un'alleata degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali E la comandante Karim come si è procurata armi americane? Per quasi un decennio ho inviato armi alla comandante Karim Per supportarla nelle missioni contro Al-Katala e le incursioni russe nell'Urzikstan Spedizioni illegali? No Per poter salvare delle vite ho inviato delle spedizioni illegali Con fondi che ho approvato io stesso Silenzio, silenzio, prego Generale Shepard nell'ottobre 2022 ha autorizzato la Shadow Company a sparare su una Task Force sotto il suo comando alla Salmas, Messico No, non l'ho fatto Signor Graves Lei ha ricevuto l'ordine di sparare contro la TF141? Sì, signore Silenzio, silenzio in aula Chi le ha dato quell'ordine? Il generale Shepard E lei ha eseguito quell'ordine Graves? No, nel modo più assoluto Silenzio, silenzio! Oh cazzo, si sono pugnalati alle spalle Pensano solo a salvarsi la pelle Ognuno pensa per sé Questa è la differenza tra noi e loro Facciamo finta di niente, capo Il modo per fermare le guerre È vincerle Niente prigionieri Buona caccia Anche a te, capitano Nick, riporta indietro Farah Sì, subito capitano Bene Pronti all'estrazione Torniamo a casa Watcher è bravo Mi rascolto, Watcher L'MI6 ci sta girando comunicazioni di Connie Forza, Kate, dove sono? Connie è a Londra Forca puttana Makaroff è vivo Ha comunicazioni di un certo zar 9-0 È la sua disegnazione Che cosa ci fanno a Londra? Secondo l'intelligence, domani Connie incontrerà un noto Black Hat a Greensbury Park Un hacker Il bersaglio A cosa vuole accedere Connie? Scopriamolo e fermiamoli Quell'hacker può condurci da Makaroff Se Connie è a Londra, lui non può essere lontano Ottenute le informazioni, dovremo sbrigarci Chiederò a Londra un'unità antiterrorismo Ghost, collegati alle telecamere di Londra E guidaci mentre noi seguiamo il bersaglio a terra Makaroff potrebbe essere qui Capiamo dove si trova Ed è nostro Per ora Seguiamo il bersaglio e troviamolo Bravo 07 a Watcher Telecamera online Ok, confermo Segnale radio? Check, sei in posizione Soap, forte e chiaro Affermativo Vedo il bersaglio, cappuccio nero Perfetto Diamoci da fare Ok, Soap pronto a muoverti Non fatevi notare o perderemo Makaroff Sarà fatto Ok Ok Forse anche Connie sta guardando Ok, non mi farò vedere Hai da accendere? Fumi, Johnny Mi mimetizzo, tenente Se lo dici tu Sergenti, il bersaglio si muove Se fa una chiamata o parla con qualcuno Dobbiamo sentirla, Soap Ricevuto Se parla, l'ascoltiamo Fermo Si allaccia la scarpa Forse sospetta di essere pedinata Usa i dintorni per mimetizzarti Ti ha visto Nasconditi Si sta muovendo Stalle dietro Le squille al telefono Avvicinati e ascolta Che ha detto? Ha consegnato qualcosa per un acquirente Una chiavetta Nel vicolo tra bistro 43 e tcafè Ci serve uno visuale Ghost Usa le telecamere Ce l'ho, ce l'ho Visuale sull'uscita del vicolo Niente Connie Se ne saranno già andati Bene Cerca sui filmati qualcuno che esce dal vicolo 07 Deve essere l'acquirente L'ho trovato Eccolo Bellino rosso L'acquirente è entrato L'ho perso Cambia telecamera Eccolo lì che entra Contatto Lo vedo Adesso non lo vedo più Questa Probabile Eccolo lì Traversa la strada E' sta su di lui Contiamo su di te Visuale ristabilita Eccolo Bravo Il bersaglio si dirige verso il tunnel pedonale Il tunnel è un vicolo cieco Un buon nascondiglio per Connie E Makarov Polizia e unità antiterrorismo sono pronti a mobilitarsi Chiamiamoli Ricevuto A tutti Equipaggiarsi e pronti all'irruzione Roger Sei in arrivo Cordone sul perimetro Gli altri con me Tunnel libero C'è una porta chiusa per la vecchia stazione ferroviaria Alla porta Pronti a sfondare Quindi è che L'arma più brutta che ci possa essere Questa Mamma E' proprio brutta st'arma Guarda Non mi piace proprio per niente Forse è meglio passare di qua Ehi 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 vieni a sparare Quello che va Questa Bel lavoro, Capitano. Avanziamo. Il protivine è in uscita. E i due conni, i due conni. Andi conni, stanno scattando. e manco ho d'amesto non c'è un'arma un po' più mitraglione ragazzi no so scusami ti metti davanti la torretta si blocca capitano un attimo ragazzi fatemi ricaricare mazza è trammato la torretta ci impedisce di avanzare concentrate il fuoco di sopra i nemici si sono trincerati ai livelli superiori l'omogeno lanciato vado di sopra uno liquidato aria libera questo è il tizio con il capello rosso abbiamo la chiavetta hanno caricato il contenuto nella rete della stazione e ora coni controlla i treni c'è altro questo riconoscimento facciale è sempre che a giorno ti fa Makarov su un treno pieno di civili ostaggi vittime il tunnel è profondo 150 metri e lungo 50 chilometri lì c'è un passaggio continuo di migliaia di persone bravo intrappolerà i treni distruggerà il tunnel non lo sappiamo non ancora nel treno di Makarov si è fermato a una piattaforma di scambio chiederò una seconda squadra sì ci serve aiuto useremo il tunnel di servizio muoviamoci forse è già tardi ragazzi capitano Price al suo servizio bene voglio metà di voi con il mio luogotenente e gli altri con me informazioni bene state vicini e seguite gli ordini pensiamo a quelle porte ok se io watcher siamo sul punto cerchiamo Makarov bene vallo a prendere John non si darà mai per vinto non lo faremo neanche noi tesoro giusto andiamo chiamo soppo Price Price con te capitano miseria da che parte dobbiamo andare qua possiamo riottenere l'accesso sto cercando di bucare il loro firewall quella che era brava bravo ad aiutare un bastardo per sotti in movimento capitano buona caccia bravo con i davanti a noi non ci vedono facciamo in modo che continuino a non vederci arrivo un treno miseria sorprendiamo colmi prima che loro sorprendano Repazio 7 il giro auguralizzato non smu questo si è un attimo mamma mia ragazzi siete tutti e ancora qualcuno facciamo fare un passo fate tutto il possibile dobbiamo andarceli tutti vivi da qui bravo può contarci signore postaggi nella stanza accanto non colpiteli Roger con le faccio ma ma Oh, vi prego! Farò qualsiasi cosa! Ehi, posso scassare il zika? Fuoco! Capitano, ci sono vittime civili! Portate i supertiti al sicuro! Ragazzi! Oddio! Ci pensiamo noi! Gli altri vadano avanti! Qui 7-1. Siamo allo scambio, Watcher. Quella è l'ultima posizione nota di Makarov. Occhi aperti, Sai. Prepariamoci! Makarov potrebbe essere dietro queste porte. Quando vuoi, signore. Mi muovo! Siamo all'intrendo! Sono molto penate! ...i sono ucc non sino... ... Hai. ...di aspettare le es Sudirata, non si sono aff差. ... Ele이지 aff Scassare le conevarsi. Si,essto. Occhi! Sono qua! Si riparano nella piattaforma centrale. Contatto! Passo, attenzione ai treni. Avanzo alle sue spalle. Si stanno avvicinando. Stiamo facendo progressi. Ghost, gas, contatto con il nemico. Dove siete? Avanzo lungo il tunnel. Ci sono civili per... Ritmi giù. Ricevuto, stiamo avanzando. Macroft, potete essere riuscito. Avanziamo e stiamo compatti. Altri conni davanti a noi. Facciamoli fuori, signore. E qua non si sa... Di qua. Ok. Ok. Dov'è andato? Non lo vedo Ma come è fatto ad arrivare qua? Scusi ma come è fatto ad arrivare qua? Scusi ma come è fatto ad arrivare qua? Scusi ma come è fatto? Scusi ma come è fatto ad arrivare qua? 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 Capitano i coni sorvegliano una bomba Scusi ma come è fatto ad arrivare qua? 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 Eccomi parlami sob Scusi ma come è fatto ad arrivare qua? 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 Poliziotti uccisi Devi tornare alla microcamera capitano 07 a 6 siamo riusciti a passare Muoversi E adesso sob? Dobbiamo trovare l'innesco in basso a sinistra Ricevuto l'innesco collegato al C4 Sì c'è un numero seriale sopra Qual è la terza cifra? Numero 9 Ricevuto Ottimo lavoro Questa bomba ha due inneschi Dobbiamo tagliarli contemporaneamente Cavo rosso Cavo rosso ok Sotto Porta questo con te all'inferno Mai dare un nemico per morto Capitano Vi d'assiste Oh O andi Che Pro wali Tor An emptiness Qui Comerci vabbè ho tagliato all'uno gli hanno uscito a tutti qui bravo sei alla cieca minaccia la miseria ragazzi 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 era il migliore tra noi il più duro avrebbe affrontato il mondo a mani nude la miseria ragazzi 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Vi ricordo che se volete supportarmi lo potete fare iscrivendovi al canale lasciando un mi piace al video, gesti gratuiti, nessun costo, nessun impegno ma per me è importante mi supportare nella crescita del canale detto questo ragazzi grazie per aver visto questa puntata e ci vediamo prossimamente Ciao